Musica Ben trovati dalla redazione di Telebari, oggi apriamo con una novità dopo anni di attesa, al via oggi i lavori di costruzione del nuovo canile sanitario comunale che ospiterà fino a 200 randaggi, capienza massima prevista dalla legge regionale 26 del 2006. Il dettaglio in questo servizio di Silvia Dipinto. 25.000 metri quadri per contenere 200 cani randaggi da sottrarre alla strada. Partono oggi i lavori di costruzione del nuovo canile sanitario su suolo concesso dal Consorzio Asi che la città di Bari aspetta da anni. Un parco rifugio dunque con 180 recinti a 5 posti, più 20 spazi per cani singoli, collegato ad un parco sanitario con 40 posti per l'adegenza e l'infermeria. Gestire bene il randaggismo significa evitare le malattie, evitare anche episodi drammatici come l'uccisione di persone che sono state aggredite da branchie di cani e soprattutto evitare incidenti stradali, fatto questo ovviamente nell'esperienza di ciascuno di noi. Naturalmente dobbiamo uscire da questa emergenza e Bari non può farlo da sola. Questa è una struttura unica in tutta la Puglia, significa che se noi non facciamo la stessa cosa anche negli altri luoghi è possibile che le associazioni di tutta la Puglia finiscano per venire a lasciare i loro cani qui nell'area metropolitana di Bari, il che ovviamente manderebbe in default tutto il sistema. Un progetto che l'amministrazione comunale realizzerà in sei mesi per un costo complessivo di 1.900.000 euro e proprio sulle spese non mancano le proteste delle associazioni animaliste. Sono dei costi abnormi, sono costi che quando dovessero essere pubblicizzati veramente le persone bisognose in tempi come questi sono vergognosi. Ho sentito parlare di 2 milioni di euro, però posso dire con cognizione di causa che un canile, sia il sanitario che il rifugio per 200 cani, al massimo può costare 500-600.000 euro, non di più. Dalla tutela degli animali alla tutela dell'ambiente diminuiscono in Puglia i tempi di spegnimento degli incendi, ma gli incendiari agiscono indisturbati perché nessuno li denuncia. E' quanto emerge dal rapporto 2010 della Sala Operativa Permanente della Protezione Civile presentato oggi dall'assessore regionale alla Protezione Civile Fabiano Amati. A fronte di un aumento del numero degli incendi c'è stata una diminuzione dei tempi di spegnimento degli stessi, ha dichiarato l'assessore. Nel 2010 è stato registrato un incremento pari al 38% delle segnalazioni di un incendio pervenute dalla Sala Operativa Unificata rispetto al 2009, che passano così da 4.025 a 5.558. E cambiamo argomento. La flotta delle ferrovie a Pulolucane si arricchisce di nuovi mezzi. Stamattina la conferenza stampa di presentazione dei nuovi 15 autobus. I dettagli da Cristina Ferrigni. Oltre 100 corse ferroviarie, 158 corse su gomma. Sono le cifre del servizio di trasporto giornaliero offerte dalle ferrovie a Pulolucane che oggi hanno presentato 15 nuovi autobus che si aggiungono alla flotta FAL. Un passo avanti nella politica di cambiamento delle ferrovie a Pulolucane, come ha dichiarato il Presidente Matteo Colamussi. Con l'emissione in servizio di questi nuovi 15 autobus diamo un segnale tangibile di un processo di cambiamento iniziato due anni fa con l'insediamento del Consiglio di Amministrazione da me preseduto. Il 75% dell'acquisto è stato finanziato con fondi regionali, mentre il 25% per una montagna di circa 700.000 euro è stato finanziato con fondi delle FAL. Nel rispetto delle normative sull'ambiente, nuovi autobus sono dotati di sistemi di aria condizionata e riscaldamento, 49 posti a sedere e pedane per disabili. Portare la legalità nelle scuole è decisivo. Lo ha detto il sottosegretario all'interno, Alfredo Mantovano, che oggi a Bari ha partecipato alla presentazione del progetto FELCE, Formazione ed Elevazione della Legalità per una Cultura Educativa, cura della provincia di Bari e del sindacato autonomo di Polizia. Sono intervenuti fra gli altri il procuratore della Repubblica di Bari, Antonio Laudati, ed il prefetto di Bari, Carlo Schielardi. Il progetto servirà a sensibilizzare gli studenti delle scuole medie e superiori su diversi temi, dall'alcol ad internet, sicurezza stradale, droghe, ambiente, bullismo, giustizia, tutela delle fasce deboli, stalking fino al razzismo. E passiamo alla cronaca. La cronaca guarirà in una settimana, secondo il parere dei medici del Policlinico, il minorenne che ieri pomeriggio, durante l'incontro Bari-Brescia, è rimasto ferito per l'esplosione di un petardo nel parcheggio dello stadio San Nicola. Il giovane è stato colpito al volto e agli arti superiori. Sull'episodio indagano gli agenti della sezione volanti della Questura. È stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata. Per questo è stato arrestato dalla polizia Filippo Morolla, 31 anni, incensurato, residente al quartiere Iapigia. Su due dosi di peso più consistente c'erano scritti a mano in codice i nomi dei probabili clienti. Presentato questa mattina nella sala giunta del Comune di Bari il programma della terza giornata europea del dialogo interculturale dal tema il doppio sguardo culture allo specchio. In occasione della conferenza stampa, l'assessore alle politiche giovanili Fabio Lossito ha presentato il nuovo bando di concorso dell'Associazione Intercultura che assegnerà entro il 10 novembre centinaia di borse di studio agli studenti tra i 14 e i 17 anni che potranno così frequentare un periodo di scuola all'estero e vivere in una famiglia di un altro paese. Voltiamo decisamente pagina, grande debutto per Notti Sacre, il festival dedicato alla musica e alla riflessione, un'iniziativa sostenuta anche dalla nostra emittente Tele Bari. Le composizioni di Vivaldi e Mozart eseguite dall'orchestra provinciale hanno davvero incantato i baresi. Vediamo. Bari Vecchia spalanca le porte alla musica e alla preghiera ed è trionfo. Sabato sera gremita la cattedrale per la prima di Notti Sacre, il festival voluto dall'Arcidiocesi di Bari Vitonto in collaborazione con la provincia e il comune, la fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e la nona circoscrizione in cui arte, teatro e riflessione si uniscono nell'incanto della notte. Per nove giorni, 11 chiese del Borgo Antico rimarranno aperte ogni sera dalle 19 alle 23 per offrire spazio a 5 concerti, 4 spettacoli di teatro musicale, 3 concerti d'organo e 8 mostre. L'esordio sabato nella cattedrale San Sabino, dove l'orchestra sinfonica della provincia con il coro diocesano ha eseguito musiche di Antonio Vivaldi e Wolfgang Amadeus Mozart sotto la direzione del maestro Michele Nitti. Tra gli eventi più importanti, l'incontro di stasera, l'eventi in cattedrale con Enzo Bianchi, fondatore e priore della comunità di Bose che parlerà dei laici nella chiesa e nella società. Appuntamento con il canto gregoriano invece domani martedì alle 20 nella chiesa di San Michele. E ancora un altro appuntamento resterà aperta al pubblico fino a giovedì 30 settembre la mostra di Yannis Cunellis che ha registrato uno straordinario successo di presenze con oltre 15.000 visitatori. Stamattina presso il Teatro Margherita la presentazione del libro catalogo Cunellis a cura di Bruno Corà, edito dalla Silvana Editoriale. Un'occasione di confronto per fare il punto della situazione sull'arte visiva proprio a Bari. Il gruppo Maldarizzi si arricchisce di un'altra preziosa vetrina a Matera dedicata al marchio Mercedes-Benz, il servizio di Maria Alessandra Bellomo. Il gruppo Maldarizzi si allarga ed inaugura una concessionaria Mercedes-Benz a Matera. Oltre 2.000 metri quadrati di strutture unitamente all'impiego di 10 dipendenti circa. Così il mercato dell'auto viaggia ad un ritmo incessante, almeno stando ai numeri delle concessionarie che si riferiscono al gruppo Maldarizzi. L'impero delle quattro ruote dunque si arricchisce di un'altra prestigiosa vetrina in via delle arti 13 dedicata al marchio Mercedes-Benz. Grazie all'intuito dell'amministratore del gruppo, Francesco Maldarizzi. Stasera siamo qui perché inauguriamo la concessionaria ufficiale Mercedes-Benz per Matera e territori limitrofi. Sicuramente sono molto orgoglioso di aggiungere questa stella agli altri marchi che rappresentiamo e sono molto fiducioso che si possa svolgere in questo territorio specifico un ottimo lavoro. Sicuramente sul breve non abbiamo un futuro molto buono, sarà un anno sicuramente molto duro. Le nostre prospettive di crescita però sono buone e stimiamo superato il 2011 di avere un grosso recupero. Passiamo al tempo previsto per le prossime ore, ancora cielo nuvoloso coperto, le temperature senza variazioni di rilievo oscilleranno fra 16 e 24 gradi, vento di tramontana e mari poco mossi. Vi ricordo poi come sempre i nostri indirizzi internet www.telebari.it e radiobari.net. Per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi e più tardi.